Prisma a base pentagonale Dopo aver tracciato gli assi che determinano i piani di proiezione, si inizia il disegno dalla pianta sul piano orizzontale, in questo caso un pentagono. La prima traccia del disegno va sempre fatta con linea continua sottile. Si tracciano le linee di proiezione che partono dagli spigoli della pianta, si riporta l'altezza del solido e si definisce il prospetto sul piano verticale. Per disegnare il fianco sul piano laterale si tracciano le linee di proiezione che partono dagli spigoli della pianta e arrivano all'asse verticale che divide i piani di proiezione. Facendo centro all'incrocio degli assi, si tracciano poi gli archi di circonferenza fino ad incontrare la linea di terra. Da qui si prosegue con le linee di proiezione verticali necessarie per definire la vista sul piano laterale. Dagli spigoli del prospetto si tracciano le linee di proiezione orizzontali che definiscono il fianco sul piano laterale. Completato il disegno, si ripassano gli spigoli in vista con una linea continua pesante e gli spigoli nascosti con linea tratteggiata, ma non si devono ripassare le linee di proiezione. Grazie. Grazie. Grazie.